Le posso chiedere se farà il vaccino contro il Covid quando sarà disponibile? Non lo so. Quando uscirà vediamo per bene quando ci saranno tutte le valutazioni medico-scientifiche un pochino più definite. Certamente sì, sono un'insegnante e credo che sia una cosa dovuta per la sicurezza mia e dei nostri allunni e di tutti quanti. Sì, lo faremo sicuramente, il vaccino contro il Covid quando ci chiameranno, che forse non saremo i primi, ma insomma siamo certamente ben disposti perché bisogna interrompere la catena del contagio. Aspettiamo un pochino di risultati prima, non siamo ancora indecisi noi su questa cosa qui. Orientativamente sì, ma non subito, vediamo come va. Sì, facciamo il vaccino contro il Covid. Quando verrà, quando ci tocca il nostro turno, anche noi faremo il vaccino. Sì, certo. Non lo so. Sicuramente. Sì, lo farò. Sì, certamente lo farò quando sarà il momento, credo che prima ci siano delle priorità da seguire, ci sarà un ordine di persone che saranno sottoposte a questo vaccino, ma credo che sia l'unica speranza che abbiamo per uscire da questo periodo, quindi sì. Ne penso tutto il bene possibile, spero che arrivi presto, se non altro per toglierci da questa situazione e se sarà possibile lo farò. Sicuramente non ne ho la minima idea. No, sì, 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 appena uscirà si farà, certo, certo.